buonanotte a tutti gli amici e non della versione 1.1.1.1.1.1.1 alleluia ragazzi iscrivetevi al gruppo facebook che non sto notando con piacere che lo state facendo pian piano pian piano torneremo ai grandi numeri del mio vecchio gruppo del passato ma speriamo vediamo sotto il link descrizione troverete il gruppo link per iscrivervi iscrivetevi al mio canale ragazzi ama 2000 iscritti poi non vi chiedo più nulla dai dai antipatico non antipatico non vi chiedo niente ragazzi non vi sto neanche chiedendo di andare sul super grazie di fare donazioni per aiutare il canale per arrivare più che altro acquistare sta benedetta ps5 ed ecco qua aggiornamento è già la schermata diventa blu il saluto gli admin e moderatori tutti quanti che sapete ogni volta che i video li saluto tutti i belli e brutti 2015 12 andiamo avanti nuovi oggetti nella posta europa come raga la stragrande maggioranza cerco di schippare perché clip 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 perché tanto avete visto un po tutti non ho possibilità di registrare molto perché mi dimenticato di scaricare la pace di installarla chi cazzo sta scaricando arrivo subito un attimo oggetto prolega amministratori ma avanti 5.000 gp scusa amministratore nuove genera posta prima fa sticolo qui sotto 4.000 punti as per due premi fasco vabbè finito perché cazzo mi stava dando niente la gamica di scaricare qui c'è messo tanto tempo a installarlo più che altro non a scaricare scaricare non ci ha messo proprio un cazzo va proprio niente ragazzi e quindi detto ciò detto ciò detto ciò andiamo avanti allora possiamo girare mediasi infiniti perché va a fare il culo a luglio intendiamo si va beh scatta del culo beh l'hanno fatti io non sto schiacciando niente raga option posti in arrivo papiamo tutto posti in arrivo io solo questi ragazzi e perché termino scusami termine 60 giorni così gp e cazzo te ne fregati alla riprende lega vabbè 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 fuori che hanno messo niente ragazzi non ci sono eventi fuori qui sta questo qui questo tre giorni questo 5 giochi devo fare ancora questo ragazzi hanno messo la wild world championship città aspettando mamma e queste giorni vabbè da tre ne abbiamo ok pian piano rifaremo ma quando non lo so portano ebbe quando c'è quando lo metti un cazzo e quando metti tutti a muovi fare farò vedere a vabbè scusate un attimo mannaggia la chitebbia ovviamente ho chiuso in divisione 4 non sono riuscito a essere in divisione 3 per una vittoria sono sincero la fase 3 iniziata inizierai la parola qui basta a fare 9 oggetti nel post 15 mila gp 9 oggetti nella posta mille punti esp e che sono due secoli minchia questi già sono partiti al razzo mamma mia raga madonna me e ci è ma ma state sempre senza fare un cazzo realmente dal mattina alla sera figmi ma vabbè da chi se ne fotte quindi vabbè questo vediamo con calma tanto abbiamo mesi di tempo poi hanno messo tutti i super premi o pacchi del mondo parola guardate la posta in arrivo di nuovo ma no posti la madonna papiamo tutto di nuovo siamo quasi a 500 mila gp 4 c 5 vabbè contratti raga io una domanda vi pongo ma secondo voi è vero che mo ci danno tutti questi pacchetti ma alla fine prendendo poi tutti i pacchetti o te ci siamo sistemati tranne con le leggende per tutta la vita ma ma faremo più squadra questo punto facciamo più squadra questo punto via un'altra domanda vi pongo ma Grazie a tutti. Allora, ho fatto la bava, mi sa che l'ho fatto per un po' come alcazzo. Quindi, stavo dicendo, tutti questi pacchetti, che io non li prenderò mai, ma perché pian piano si riesca a farmi dal giorno, vi do le mie ideali motivazioni. A volte che c'è gente che ha già buttato 100, ragazzi, l'ho visto con i miei occhi. Guardate, questo scade fra un mese, diciamo, fra un mese, fra un mese, vabbè, sei giorni, dieci giorni, sei giorni. Allora, questo è gratis e poi potete continuare, cioè vi dà 100 monete gratis, un po' potete continuare a girare con le monete. Questo tre giri con le monete, e lo faremo. Questo manco regalato lo farei, poi vi spiego. Questo è contratto mirato, ragazzi. Poi vediamo cosa riusciamo a conquistare con i contratti mirati, perché tanto avete capito che si vanno a prendere con... Vabbè, partiamo di questa cagata, con il contratto mirato. Questi sono i giocatori che io non girerò né muo né mai, però questi alla fine scadranno, come vi faccio vedere adesso. Qua vi dice, se non erro, non ve lo dice più, quando cazzo scadono i nostri contratti mirati. Ecco qui, scusate. No. Vuota. Comunque, sono quelli a una stella e due stelle, che alla fine li dobbiamo consumare, ragazzi. Come vedete ho qua tre stelle, cinque, due stelle, cinque, una stella, meno male, non la voglio. Quindi, potesse che vaffanculo. Ma cazzo si fa vedere? Scusate. Ecco, contratto mirato. Vedete? Vi dice, quando vi scade il 24 giugno, scade il contratto da due, ne ho uno. Contratto da tre, ne ho uno. Due, due, vedete? Quindi, se vedete che il 24 giugno avete un contratto da due, da due significa qua. Andate qui, anche. Contratto mirato. No, questo è un da tre. Oh, Tavernell 83, l'immortacci tua. Quanto cresce questo? E questo c'è a sei livelli. Mi sono innamorato di Tavernell, però a trent'anni va a fanculo. No, no, ragazzi. Poi, peccato che non puoi convertirli e darli su quelli che hai già. Purtroppo. Vabbè, comunque questi, cioè, contratti da tre. Comunque, vedete? Scaldrà il contratto da tre, vi prendete uno di questi, ragazzi. Tipo... Già questo è un TS, è buono. Paquetà. Che cazzo vedevo dire? Cioè, ho reso l'idea? Al momento, lasciate stare il mondo com'è. Niente, i contratti da un, due stanno qui, ragazzi, purtroppo. Bisogna buttarli a cazzo. E poi li svincolati. Vabbè. Questi sono cinque stelle e bisogna guadagnare le cinque stelle con gli obiettivi premium che hanno dato. Quindi, avremo tempo per farli. Questo sempre, sono tutti contratti mirati. Questo e altri contratti mirati. Ah, stanno due stelle qua. Me, 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 me. Ci sono due stelle qua, ragazzi. Due stelle, tre stelle. Interessante. Hoffman. Milenkovic. E questo, questo è un quattro stelle, è un bello bagatino. Vabbè. Ricordate, basta, mi sa fare così. Triangoli, vi dice quando vi scadono. Vi dice quello che avete e quello che vi scadono, ok? 24-26 giugno. 24-26 giugno. Vabbè. Va dalle ciance, andiamo qua. Questi sono quelli che potete continuare a girare, con le monete. Ma io manco più cazzo. Anche perché ce li ho. Quindi, un lancio ce l'ho. Ma è gratis. Lo prendiamo e lo giriamo. Cosa mi dai? Non me la poto un cazzo. Mi devo pure sbrigare. Mannaggia, chi te be? Ma dobbiamo prendere di staminico, ragazzi. Sicuramente, tre stelle al 99,9% per io. Fugurte. Una stella, quattro stelle. Beh, diciamo che gratis. Gratis, quattro stelle. C-E-C-U-S. Benfica. Everton. Con questo ci giocavo all'inizio dei PES perché era gratis. Obiettivo completato tra giocato e gaggiato i 10. Vedi, pian piano gli obiettivi cominciamo. Provo 25 anni. 32 livelli. Però non danno ancora. La modalità, quelli per le abilità. Sai, per dare le abilità ai giocatori e le posizioni. Cioè, se io lo voglio mettere 6 P, no lo posso a me. Sì, lo puoi utilizzare come 6 P, ma non viene... Quattro stelle. Vabbè, ragazzo, andiamo avanti, lo lasciamo. È gratis. Ciao. Oh. E qui abbiamo tre giri, ragazzi. E che fanno? Li giri? Certo che li giri. Chi voglio? Che voglio di che fa? Salah, Van Dyck. Allora, non voglio. E tanto mi usciranno. Matic e Ederson. Scommettiamo che questi due escono. E ora vi faccio vedere. Andiamo avanti. Stiamo girando le monete che abbiamo accumulato grazie a Konami. Non è quelli che ho shoppato, che sia chiaro. Mettiamo i punti sulle i. Oh. Vabbè, sono tutti 5 stelle, non tutti che stiamo a dire minchiate. Ovviamente English League. Sì, vabbè, ma se sono 5 stelle, questa animazione non si aveva un cazzo. Alison. Beh, è già qui abbiamo un portiere da sostituire. Oddio, non è che sia proprio, però, un portiere da sostituire a Konami che ogni tanto fa delle cagate. Adesso ciò è adesso. Adesso. Vabbè. E questi si possono livellare, ragazzi, eh. Vedete? C'ha 6 livelli. Blocchiamo. Dovessimo sbloccarlo e fare le puttanate. Andiamo avanti. Dai. Tanto se non dai sarà già so cosa devo fare. Minuti che stiamo a perdere tempo. Qui ragazze, calcolate, se uno vuole prendere un pacchetto completo, diciamo, se ne vanno un po' di euro, ragazzi. Non li spendete tutti in zia. Intanto c'è tempo. Sì, ma non mi interessa l'animazione 5 stelle. Ops. Ops. E quindi qua già cambia qualcosina. Mo' vi spiego perché. Finalmente. Vaffanculo, vai. Raga, ma poi, scusate, da settembre in poi, che cazzo carichiamo? Cioè, che cosa dobbiamo pescare? Questa è un'EDA che diventa, vediamo, 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 vediamo. In alto a destra. Lo guardiamo insieme. Ecco, solo un'EDA. Vedete? Sì, lo possiamo mettere come PSP e mortacci sua. Però, 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 non è tutto rosso. Porca puttana Eva. Vabbò? Beh. Adesso, non c'è due senza tre. Mi dai Van Dyck, vero? Non fa lo stronzo. Non fa lo stronzo. Non mi danno un di quelle cagate. Non fa lo stronzo. Non fa la stupida stasera Konami. Mannaggia la chitta e bevo pur dit che teng. Sì, va bene. Non fa lo stronzo. No, ragazzi. Un trist da culo, ragazzi. Un trist da culo. Non posso dire altro. Non posso dire altro, ragazzi. Questo si chiama culos. CULOS. Ecco. CULOS. Obiettivo, completato, nomi giocatori ingaggiati, lista giocatori 10. BABU. BLOCK. Ovviamente lui sul DC è la rimane. Non si deve proprio niente. Anche su ultima me sta un po' cacando. Vedete? E se ne andò. Allora, questi sono contatti mirati. Possiamo uscire. Fuori. E mo' veniamo qui. E no. E? Scusato, ho sbagliato. Vabbè, abbiamo già un bel acquisto. Obiettivi. Andiamo nei vostri obiettivi. Obiettivi premium. Raggiungi questo obiettivo e ottieni ottieni obiettivi svariati obiettivi da affrontare. Qui ci sono quei settimane anche ancora non ci sono. Andiamo a vedere qui cosa c'è. Cosa va. Risquotivi. 200 punti point. Numero di scuotivi. Ok. Che poi andiamo a vedere cosa possiamo fare con questi punti point. Ecco qui. Andiamo qui. Questo 27 giorni. Ovviamente per vedere cosa cazzo dobbiamo fare. Io non ci ho capito un cazzo. Partite eventi turn. Squadra di sono reso. Cioè basta fare eventi. Tipo World Championship. Giusto? Ottenuto in base. 0,5 ho capito. Poi affrontare. Vabbè ragazzo. Giochiamo tutti. Vediamo che cazzo. Ecco il 5 stelle. Vedete. Il 4 stelle. Ok. Vabbè. Usciamo. Usciamo. E andiamo qui. I premium. Ecco i pacchettoni ragazzi. World War. Special. 20 giorni. 5-50 giorni. Messi. 50 giorni. Nei mani. Quindi avete tutto il tempo. Barcellona. Bayer Monaco. Manchester United. Arsenal. Roma. Celtic. Monaco. Galatasaray. Eh. E questo è gratis. 1500 anche Manchester City. Ragazzi. Mocca la muerte. The month. Vabbè ragazzi. Pian piano. Devevo capire cosa cazzo fare. Allora qui sono 500 monete. Che praticamente. Ho questi obiettivi bonus. Sono a tempo illimitato. Completa tutti gli obiettivi. Ottieni fino. Perché piano. Come cazzo possiamo fare tutto. Il programma fino a 14. E ottieni fino a 110.000 GP. 48.000 punti extra. Faccio Ducati. In otto potrà ricevere svariati altri premi. Tra cui il contratto di 5 stelle. Noi obiettivi completati. Cioè se completiamo uno quelli da Glass. Qualcuno ha detto una minchiazza. Ottenuto. Ottenuto completando un determinato. Un obiettivo. E ti dà le monete. Ok finalmente. Ottenuto. E' confuso. Vabbè acquistiamo. Ok. Rusciamo. Come continua? Continua. L'ho preso. Ah e ti dice che obiettivi fare. Giusto? Tipo vieni qua. Schiaccia. Vabbè dai. Questo special. Ti dà su Browen. Chi cazzo è? Questo obiettivo. Fino fino a 140.000 GP. Ma se li faccio tutti. Torni indietro. Mille monete. Vabbè. Mo vediamo. Pian piano. Qua 2.000 monete emessi. 2.000 Barcellona. Lo so ragazzi. Io parecchi ce li ho già. Eh sì. Tipo prendi questo. Ma raga. Io devo valutare. Io ce l'ho la squadra. Quindi. Devo valutare piano piano. Il da farsi. Devo capire. Perché non prende. Butto monete a capocchia ragazzi. Arsenal. Roma Celtic. Monaco. E Manchester City. Eh. A sto punto. Ho tenuto in base le partite. Madonna mia. Ma io non ho capito il 30. Vabbè. Mille monete. Mi vedrò davanti i coglioni. Ok. 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 Vabbè. Questa abbiamo. 55. 55 giorni. E tu. Ok. Avete capito che ho fatto? Con questa. Avrò due mesi di tempo con piano. Torniamo indietro. Veloce a fare la squadra. Torniamo indietro. Spero che non stia facendo. Sto valutando il da farsi. Ok. Allora. La mia squadra batte un colpo. Vediamo che si può fare. Vediamo. Andiamo così. Qualcuno da pompare che avevo già. Go. Chicos. Ma ballavolo ce l'ho vero. Ok. Ok. Un giorno. Chicetone. E' da vostro tavernello. Devo dire una cosa. Tavernello. Ah io c'ho già tantasette a vernello. Tavernello. Tavernello. Buon tavernello. Che è l'altro che ho preso. C'è la carta marrone. Giusto? Passa lì c'è la carta. Ma che cazzo ve le faccio. Minchia però è veloce. Vabbè vabbè. Un cazzo. Ma questo è il Chelsea. E' blocca. Quattro stelle. Vabbè. Io lo lascio. E' verto. Questa è il 77. Ma se la gammata. Chi cazzo lo uso. Slingono. Che mi dai. 2018 più 4.000 punti. Espo. Ok. Vabbè. Allora ragazzi. In the truth. Facci max. Io lo voglio provare subito. Aumento a livello. Ok. Allora. Perché ora dobbiamo fare una cosa. Progress. Ecco. Ti pare la morte da tante. Dai lasciamo così. L'obiettivo completato. Ok. Vabbè. Non mi ricordo quant'era. No. L'abbiamo portato a tre livelli. Poi l'altro era. Eh ragazzi. Però c'è pochi punti espraga. Ma come cazzo è? Ma vaffanculo vai. Perché c'è pochi punti ragazzi? Pure questo è un cazzo. Contra attacco. Ok. Vabbè dai. La domanda 91. 3 su 5. Vabbè. E basta raga. Poi. Basta. Basta. Perché non ha senso. Però Alice. Lo volevo già portare. Vediamo com'è. Aumenta a livello. Cosa cazzo le posso dare? Dai. Non c'ho punti espraga. Io non capisco perché. Io vedo gli altri che infognati quanti ne hanno. Pure è questo un cazzo. Contra attacco. Vaffan moca mamma. Questi sprechi ste cose qua. Vabbè dai. Le chiaxe le porto solo il vento. Vabbè. Andiamo qui. Ok raga. Prima di tutto devo fare una cosa perché. Tattica secondaria. Stile di gioco. Siamo contro attacco. Non c'è chi ha perché la squazza ne va a capo occhio. Ah. L'ho messa la lettera ragazzi. Che lettera ha? Oh la madonna. Oh la madonna. E lo facciamo? Lettera. Scusa. No. Vabbè. Le lettano adesso. Perché lettera ha? Ma io non so che poi c'è che ha le lettere ha quello. Ah perché il Bayermont come la Roma. Azzo. Vabbè. Azzo di tu cazzo. Posso spogliare? Ma va la vicina. Non mi piace a me. Tantano io lo sapevo. Tacci. Tu raga. Vedete perché? Il fatto che non c'è la cosa. Uff. Un figlio di nuovo. Smette averne. Quanta riposta da. Sì. Sparucu. Spar. Poi Allison. Togliamo lui. Facciamo così. Allora qua mettiamo lui. Inche 94. Lui lascia un terzino sinistro. Terzino a destra. Allora. Chi altro abbiamo pescato? Nessun altro. Giusto? Ok. Va bene così. Allora. Facciamo. Io voglio provare ragazzo. Sincero. Poi. Questo che può fare anche il mediano. Perché è tanta norma allora? Allora facciamo così. Allora. Che pare sto fatto raga. No. Mettiamo il secondo tempo da. Mettiamo Benzema qui. Cambiamo stile di gioco ragazzo. Devo cambiare. Allora. Mettiamo angolaggio. Benzema. Difensivo. Cante. Vediamo. Contro piede. Allora. Maldino. Tiratore lunga. Benzema. Ok. E raga. Io ci provo. Ah. 2006. Stukets. Beh. Una veloce qui. E poi vi saluto raga. A me può aspettare quello. A me può aspettare quello. Andiamo qui. È un evento giusto. Dovrebbe darmi. Il discorso. Dei contratti che ho preso là. Ciò che mi raffinano. Ciò capito un cazzo. Vediamo gli obiettivi. A che punto stiamo. Vediamo. Soprattutto i gameplay. Vi ha fatto un mega aggiornamento. Mega super aggiornamento. Vediamo che ho beccato. E proviamo i gameplay. Vediamo. Niente. Schema. Vabbè. Regolamento. Niente ragazzi. Solo il pallone. Che pallone mi ha aggiunto? Il mio pallone preferito non c'è. Ma vaffanculo vai. Lo stadio. Neanche. Perché è un evento. Andiamo avanti. Vediamo quanto è veloce. Ma. Andiamo avanti. Inter-Juve. Qua basta anche pareggiare. Vinciamo. L'ultimo corso. Dentro. Questo dovrebbe essere il 28 giusto. L'avversario è già pronto. Vediamo che. Che. Come gioca. Difesa a tre. Minchia volando cosa c'è là. E io come sto messo? Ecco cante. Ti pari. Lo facciamo proprio bello. Eh. Pam. 93 lui. Minchia ma la. Oh. Eh no. Questo gioco. Raga. Eh bugio. Come sta. Eh mal dire. Riposte un po'. Dai. Ok. Che ti pareva. Oh madonna. Ok. Ok. Dai. Che Dio ce la mandi buona. Ma soprattutto voglio vedere il gameplay come la gamma sarà una cagata veramente. Vediamo. Ma giusto per vedere quella spesa che ho fatto. Raga non andate subito a regalare i soldi a Kona. Ponderate. Ponderate. Ponderate tutto ragazzi. Io non so che cazzo ho fatto. Comunque. Vediamo com'è. Madonna. Che è? Che è? Vado come lento ragazzi. Obietti e completate al gol 1. Ah vedete col discorso che. Che mocio due pacchetti. Ottimo. Ottimo. Ragazzi. Volentissimo però. Madonna mia. Vai con kickoff. Goal. Aliso. Sto prendendo una d'aliso. Cioè tipo se prendete i pacchetti di Neymar e Messi avete altri giocatori che poi bisogna di farli vedere. Poi vi faccio vedere raga. Ma il discorso che se tu li prendi tutti i modi è negli anni futuri. Non lo so come funzionerà. Capitano? Ehi. Però eh. No. E cominciamo con sto a corsa dei passaggi. Maledetta a me. Oh. Un'armale a corsa. No. Vedete. Ma io. Ma io non indirizzo a lui le palle. Beh le palle sono quelle che con la mi fa girare. Gol. Questo è il gol. Perché sto cercando di pressare. Guardate. Eh. Io lo sapevo raga. Io non. Vabbè. Ah che culo. Non l'ho visto fuori gioco. E stavo piegato a gastimare la sola. Ragazzi. Eh no. Eh no ragazzi. L'ho tolta la palla. No. Eh. Addirittura. Neymar. No. Neymar. Oh. He's broken the line here. He's a goal. obiettivi come dal gol 2 obiettivi come da gol 2 la rida per forza ecco perché quando si ferma più prima li fatti gol vittoria questo marchini o smediano mi intriga e lo bispartire no no però io vedi devo valutare anche come trequartista no ha fatto del a posto di pedri ha ovviamente adesso off line faccio quelle contro con e no madonna mi passaggio ragazzi l'ho sbagliato io qua sono sincero minchia u butala sta cazzo di parla questo buco quattro attaccanti ecco non mi piace ma e non è fallo quello sta solo ma no raga no guardate che voglio dare a quello che era solo c'è lunga tra qua ma che cazzo c'è l'uomo quello certo che bandica e quali centrali non basta nessuno a me qua eh ecco tranne le cacate dei passaggi ufff alzati e dai madonna mi quanto è lento ah un po' di pesata vedo eh e fischio ragazzi ragazzi io non vedo nessun cambiamento nessuno gli occhiamo farsi difensiva vediamo come va ho detto farsi difensiva ragà non funziona più il tasto insieme a contattacchi difensivi su 2 a 0 possiamo continuare vabbè 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 cazzo vabbè vabbè nulla vabbè 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 but vabbè Vedete questo è rimasto così L'input lag In ritardo le comande Non è possibile Ma perché ha difese alte Io ho messo difensi perché è contrattacco Sì, la difese è bassa No, tre là, sono Niente, andrei in passaggio Sono tutte delle cioffrecate Buon Alisson Buggato Alisson Ecco, i passaggi vanno fin sempre a loro Poi voglio vedere il tizio Come sta a messa in divisione Oh, tiraggi Ui, ui Non riesci a fare un cazzo di go Madonna, che padre, raga Ma dove vai correndo così? Eh no, perché ti fermi? Ma Kimi si è morto Go Eh, vabbè Imprendibile sto allo Ma Kimi si è morto Beh, 95 sta là Perché, scusse Beh, diciamo Ma io tre quattisti Non c'è nessuno Sono così No Vedete quando ritorni dalla pasa Ti rientra la tattica chiave C'è offensiva No Ma devo prendere gol Che è Ma perché si sminchia sempre quando ci sono i secchi Dai, ma dove vai? Ecco Beccano lasciate me di anche come coglione Eh, va bene Go Ma salata che sta a fare là Ma non era lui Vabbè Ma la Eh, vabbè Non fare follow Testa di cazzo Eh, sì, raga Devo per forza Cambi, non le posso fare più Ma non si può vedere quello là So fatto dei trecambi poi, boo Eh, vabbè La morte Che vuoi che fai stuttire Alla chi è morto E' solo la questione di rinchiare la clock No Snervanti St'avversario Mamma mia Ma guarda che buco Ma salata che sta a fare là Va, 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 va la ciovola Va Non neanche Obiettivo Completato Vittoria Vittoria 1 Partito Completato Oh, vedete 4 stelle Me l'ha data Obiettivo Completato Partito 1 Partito Completato Interessante Va avanti 2.000GP 1.000.10 Torniamo indietro Oh Ok Quindi questi sono gli eventi Per avere I costi che ho preso là Perché se andiamo qua Facciamo così Andiamo qui Giusto? No Vedete qui Eccoli qua Vedete? Compaiono Continua E ti dice Quello che hai preso Vedete? E quello che mancano Tipo Numero Obiettivo Completato Il quadro Non so che Cazzi Comun Gli obiettivi Ah sì Ne ho fatti 4 1 2 3 No 3 Vabbè Comun Raga Fateli Pian piano Ok Idem qua Ok Vabbè Pian piano Pian piano Faremo Vabbè Qui gli obiettivi Quelli Madonna A me Sto Cacapino Cazzo Ma Niusciamo Adesso Questo Che è Vabbè Facciamo così Quindi dovrebbe Scomparire Giusto? Contratto 184 Ok 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 Usciamo E qui dovrebbe Comparire 5 3 2 Ok 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 Allora Dicevo Se prendete Questi qua Avete Questa sfizia Di giocatore Bessi Leggenda Sono pacchetti Che prenderò Prima o poi Raga Però c'è tempo Vedete Due mesi Di Maria De Po Romero Martines Palazze Giroberto Cazzi I mazzi Ma guardate Quello di Neymar Alisson Di nuovo Casemiro Marchinhos Cavani Kimpembe Lucas Molcottini Marsella Quindi Questi qua Sono lettera Giusto? E che non me le fa vedere Sono tutti lettera Raga Interessante Vabbè Raga Questo Ve le fate vedere Faccio vedere Vi faccio vedere Quest'altra cosa Ok Anche qui Stiamo arrivando A un bel punto Qui Qui Date qui Vi dice Quante monete Avete Quanti punti avete Hanno ben stati giocatori Si clicca qua Niente Hanno messo questo Che 27 anni 6 livelli Non so se sta nel parco Del Manchester City Comunque Questo è quello Del Liverpool Io non vi consiglio Non mi consiglio di Non concepare Lo Celso Come cicci Ragazzi Guardate Le statistiche Mancino 7 livelli Ci sto pure pensando Che mi serve a me Un cicci Mi serve Queste due Quelli che prendiamo Che poi abbiamo Mandati a fare In cult Vedere quando scadono Dettagli Ok Allora Prossima scala In 76 giorni Vabbè 5.000 punti Ok E qui già So alla fine Che andiamo a prendere Poi gli oggetti Vabbè Che vuole di che fa Cagate Vabbò Detto questo Ci si vede Al prossimo video Abbiamo fatto vedere Un po' tutto Grazie di tutto Arrivederci Va a fare mocca con Ami La prossima parte che farò Offline Mi faccio il controcom Farò Vediamo le divisioni Come vanno Ciao ciao